Tinkin, ra 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 Allora Hola chicchi, hola chicche Ciao belle, ciao belle Allora Dunque Benesimo video, però voi mettetevi Vettetevi nei miei panni Io che cazzo faccio tutto il giorno a casa Non stavo niente Mi potrei mettere a disegnare Perché ultimamente non disegno un cazzo Però non c'ho voglia Quindi ho ritrovato Una pallina, non ci credo Allora, questo video Capita a fagiolo Perché mi sto rendendo conto Dei miei acquisti compulsivi E Capita a fagiolo Perché la mia equina La mia equina bella Quindi La moda di chi parla come mangia Di cui vi lascerò naturalmente il canale Nell'info box Che si chiama Lo stavo per dire ma Miriam Cioè Praticamente ha fatto questo contest Praticamente ci sono persone che Accusano noi youtuber Dei loro acquisti compulsivi Visto che io sono la prima A fare acquisti compulsivi Quindi E quindi lei ha deciso di fare questo contest Io ho messo la tavolina Cioè Allora Io stamani ho comprato A 2,99 Questo di L2 Ok E poi C'era anche la tavolina Pensavo di metterla Ho attaccato qua Che però non c'entra Penso di sì E l'ho messa qui Sul tavolino No? Però credo che la metterò In quel cosino di Questo qui Viola Laterale E quindi ha detto di fare un video Noi tutte quante insieme Noi tutte quante insieme Appunto Facendo un video Di questo contest Cosa ne pensiamo Allora Io adesso non devo esprimere Il mio parere Ma devo soltanto fare Questo pezzo di video Dire che Appunto è questo contest Ho detto la parola contest Quindi G volte Che è questo contest E poi appunto Decidere Boh Cioè A quanto ho capito Il 20 Il problema Io non lo volevo fare Perché poi il 20 Non riuscirò mai Ad essere precisa Con le date Io con le date Non sono mai precisa Quindi io il 20 Non riuscirò mai A fare il video Quindi o lo giro stasera Altrimenti Io so già Che me ne dimenticherò E so già Che il 20 Il video Non sarà Online Quindi Niente Io partecipo Volentieri Perché secondo me Mi piace come argomentazione Come argomento Mi piace molto E siccome Veramente Mi sto rendendo conto Di fare degli acquisti compulsivi Ho un ennesimo haul Da farvi vedere Però mi rendo conto Che anche tante Altre ragazze Fanno haul A nastro Quindi è una cosa Un po' Di tutte Quindi partecipo Volentieri A questo contest L'ho detto un'altra volta Contest E quindi niente Penso che Il video sia finito qua Io credo Che lo debbo Lo pubblicherò Adesso Vi lascio Tutti i vari Riferimenti Di equina mia Nell'info box E chi vuole partecipare A questo contest Quindi faremo Questo video Naturalmente Vi lascio il video Di lei Nell'info box Dove lei Lo spiega Molto meglio di me Quindi Vi mando Un bacione Parteciperò Così dirò Quello che penso Un bacione E ora Vi girò Loll Proprio A fagiuolo Proprio 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 Proprio